signore e signori buonasera dal teatro abc di catania va in onda di nuovo insieme presenta salvo la rosa buonasera buonasera a tutti scusatemi eccomi qua di nuovo ancora un'altra volta sempre per sempre a fare le sue fece un signor la rosa purtroppo non c'è non si trova sì sì ci penso io e hanno chiamato a mia come al solito a pelare un ragno dal fuoco e a cavare le castagne dal buco della gatta è sempre così non si trova non si sape un neo signor la rosa io non lo so che poi io dico sta cominciando la trasmissione tu non lo sai che sta cominciando la trasmissione presentati di presentatore per presentare la trasmissione che mi costringe a mia di presentarmi che non sono presentabile perché mai perché mai ho presentato che fai perché perché tu tu che sai che sta incominciando la trasmissione perché non comincia a incominciare a presentare per incominciare che mi costringe a mia incominciare che io non ho cominciato mai non so come cominciare salvo la rosa di un presentatore che non sei altro signori miei la trasmissione che lui si allagga la bocca come come il rospo della fiabba di incinerendola chiede delle cose che dice che è la sua trasmissione e tu così che cosa sei un professionista di professione salvo la rosa tu lavori con tgs così dove mi dici che la s di tgs significa salvo la rosa e non mi sai spiegare che significa tg perché non ti presenti che sai che sta per cominciare la trasmissione perché non ti cominci perché non cominci che mi cominci a incominciare a mia che non se faccio incominciare tu non lo sai che tu non lo sai che chi incomincia è già a metà della strada e tu così non sei ancora manca a mezza una strada sei si è sparso è scompato si è mociato io ti ho detto che ci vuole mociare una volta si è mociato il trascatolo di scappe numero 45 si è trascito preciso preciso se tu sai che hai l'appuntamento perché non è che lo sai di ora lo sai da un sacco di tempo se tu sai che hai un appuntamento perché non ti presenti all'appuntamento e invece perché sei franco di appuntamento a me non mi è successo mai di mancare un appuntamento mai ve lo giuro non ci credete signora mi resta un appuntamento venisse se non vengo io me lo dico signorina mi vuole dare lei un appuntamento venisse se non vengo a tiro di palla mi presento e mi presento con la rosa io no salvo no salvo la rosa il fiore eh ma che rosavo questa me la salvo sai non me la scordo mi presento con un fiore perché le donne vanno trattate col fiore perché le donne sono un fiore perché qua c'è una serra di fiori che sono le belle donne perché io ce la faccio forte non come gli dico è laureato è laureato che poi non sappiamo non sappiamo come usare la laurea non sappiamo ah si lo sappiamo e come me la sarei presa questa laurea buonasera buonasera a tutti no no per saperlo per saperlo visto che lei dice queste cose in giro come me la sono presa questa laurea no no perché si parla che poi lei si offende no io non mi offendo signorina lei è permaloso poi si offende e me le vuol saluto io non sono permaloso non mi offendo voglio la verità io questa laurea la verità la sono presa si la verità non è capace di dire non mi arrabbio sicuro? sicuro? signor La Rosa lo sanno tutti che lei a laurea ci ha accattato il suo padre ma che dice mio padre non l'ho fatto mai ho incontrato il suo padre la settimana scorsa mi disse l'ultima rata a Pavai sei mesi fa ma non è vero povero mio padre l'ha messo nei guai ci ha accattato a Svizzera ma mio padre mai è stato in Svizzera suo padre io a Svizzera a accattarci a laurea e incontravo a Bossi Bossi ci ha accattato il suo figlio e suo padre ci ha accattato a lui ma mio padre a Bossi non lo conosce la vuole finire con questa storia signor La Rosa il suo padre mi ha detto che la laurea era in tedesco e glielo hanno ribattuto la laurea è ribattuto va bene lasci perdere guardi piuttosto mi dice chi è che mi ha chiuso dentro il camerino? ah era chiuso nel camerino? ero chiuso nel camerino per questo non sono arrivato anzi scusatemi se non sono arrivato in tempo mi hanno chiuso da fuori? si mi hanno chiuso da fuori e chi è stato? e non lo so lei non ne sa niente io? io che non so io che sono il mio commissario montabba nelle coni certo certo quindi lei non ne sa niente io non ne so niente perché mi è stata tagliata così non ne so niente io lo dico io è stato lei a chiudermi no è vero si è stato lei a chiudermi dentro il camerino è vero io ho stato qua anzi a fare ciucumogli a lei per trattenere il pubblico no no è stato lei e non so neanche perché è stato lei a chiudermi non è stato io perché mi ha chiuso? perché non mi volete fare un provino? perché non mi volete lanciare nel mondo come un missile sputnik delle stelle del teatro? perché non mi volete fare fare affiscio? ma che sta dicendo? ma che cosa sta dicendo? non dica corbellerie, corbezzoli beh che sappiamo un dorascio ma perché? parla vastasso ma caro quando mai lei? ma che dici appunto io non ho mai detto brutte parole vai vai ma perché i capezzoli che cosa sono? non c'hanno un riferimento sexy no nessun riferimento sexy semmai scusatemi quelli sono i capezzoli per questo ha detto lei sì va bene va bene comunque facciamo una cosa cambiamo argomento piuttosto seconda puntata di nuovo insieme quindi grazie vi saluto con grande affetto grazie come avete visto a casa mia facciamo questa trasmissione la costruiamo passo dopo passo puntata dopo puntata il signor Litterio è uno dei protagonisti di questo nostro racconto ma poi c'è una mia collaboratrice che cosa vuole? che cosa vuole? è una collaboratrice domestica non è domestica è una mia collaboratrice una donna straordinaria che collabora con me anzi chiamiamola insieme la signorina Nadia De Luca buonasera 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 dottor La Rosa signor Litterio buonasera 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 come sta? bene bene grazie allora guardi io vorrei cominciare subito per non perdere tempo e ho già un'idea per la puntata di questa sera vorrei fare un video con alcuni tra i più grandi comici della nostra tradizione giusto bellissimo perché magari non tutti si ricordano come dicevamo la volta scorsa e soprattutto i più giovani non hanno mai visto recitare i grandi del passato vero non ci pensa dottor La Rosa che gran regalo faremo i nostri telespettatori riproponendo i giganti del passato chiudere gli occhi e lasciarsi andare alla memoria una musica l'atmosfera e le immagini che scorrono nelle nostre menti è bellissimo bellissimo ci vuole anche un grande applauso brava brava signorina Nadia perché abbiamo visto alcuni tra i più bravi in rapida sequenza scusa non so se posso posso parlare posso dire qualche cosa la posso dire qualche cosa lei può dire quello che vuole quello che mi passa la testa la posso dire certo non sia rapido perché in questa conseguenza io non c'ero allora intanto io voglio sapere perché in questa conseguenza io non c'ero non è una conseguenza ma è una rapida sequenza per favore stia buono stia buono abbia pazienza si metta comodo non è questo il momento devo avere sempre pazienza non è questo il momento ascolti signor Litterio le prometto che dalla prossima volta avrà il suo provino d'accordo? sicuro adesso però mi faccio andare che ho tanto da fare a dopo ci vediamo dopo meno male che c'è Nadia ah signor Litterio deve avere pazienza come le dicevo prima non è questo il momento per un Litterio fresco è sempre il momento si per un Litterio è sempre il momento noi facciamo un amaro che si chiama Litterio per un Litterio è sempre il momento sicuramente avrebbe un grande se ha agghiacciato anche due momenti va bene ha fatto lo spot pubblicitario facciamogli un applauso però signor Litterio mi dica mi dica quando mi ha lanciato lei è fissato io la lancierei nel fondo delle stelle del teatro anziché lanciarla mi racconti durante il lockdown di cui abbiamo parlato nella precedente puntata durante questo lockdown mi abbiamo visto lei è fissato mi sape che mi è successo esatto volevo sapere se era successa qualche altra cosa si perché durante questo lockdown lei lo sa che sicuramente il presidente Conte al prossimo DPCM dirà block day io ne sono convinto perché lei tanto sta insistendo sì praticamente che cosa è successo che due giorni prima che scattavo questo block day esatto va bene così è venuto di Torino perché allora a me parentela esatto chiariamola io ho un cugino che si chiama Alfio esatto e si chiama preciso come me Alfio Scalisi perché io l'iterio Scalisi perché siete fighe di frate e frate perfetto quindi siamo cugini Alfio si maratavo con sua moglie che prima ah si è sposato con sua moglie è bravo esatto mentre lei invece si è sposato con mia moglie che non è sua moglie no è un'altra moglie è un'altra moglie che questa qua prima di maratare a mio cugino che è cominciata non è scemo esatto certo ma se lei non la conosceva poi si è sposata con mio cugino e è diventata mia cugina si dice cugina acquistata no acquistata acquisita acquistata sembra una che arriva così questa Graziella è chiamata così perché Graziella è un po' buttanella ma non è che si chiama Graziella perché è così è così e io non lo voglio neanche sapere perché è così non lo so però giusto giusto fa rima ma lei è sicuro che questa è sicurissima ha le prove ha le prove mi cucino Alfio stai di fronte a mia casa e questo lo sappiamo c'è solo la strada che ci separa questo lo sappiamo e quando ce l'hai detto Alfio fammi la cortesia io cucino io se mi vedi in un film dell'orrore non voglio cimera tu a sera quando tra sei andato a stanza a letto e ti spogli ma fare la cortesia che i prussiani la calare le prussiani le prussiani ti chiedi avanti la tenda che è bianca sottile trasparente che se tu ci passi di dietro ti vedo certo tu taccalare i prussiani i tappinarelli no le tapparelle per favore la calare ti chiedi cretino quante volte te l'ho detto che ieri sera ti disse è nove e mezza ti ho visto che facevi l'amore con tua moglie io mi chiedi mi chiedi vedi quel cretino se tu che io a Sire non mi pensi la casa non c'era perfetto quindi proprio uno stupido completo vabbè qui era non lo so quindi insomma quindi suo cugino Alfio si è sposato con Graziella che è diventata sua cugina acquisita acquisita questa Graziella ha una sorella che si chiama Teresa Teresa questa Teresa io non so ci sia come Graziella se mi era cuno di Torino e vabbè questa è la seconda volta che veneva la prima volta che vene signora Rosa vene con il treno io poi arrivo a stazione io come scendiamo dal treno pare che aveva la buzza sotto un'azio tutti gli italiani va a stazione ma come siete qua voi i terroni alcuni sono convinti ma guarda i bar come sono tutti pieni la gente non lavora qui legge il giornale mangiano la granita la brioche i cornetti nè a chi andava andava la macchina ma guarda che traffico nè non sono a lavorare nelle fabbriche o negli uffici nè sono efficaci sono efficaci ci sono noi a Catania ci dai a tua sorella in 448 ti fai chiami passeggeri no per favore non si risponde è un intercalare che hanno quelli del nord soprattutto i piemontesi basta stavolta vieni venne la signora Rosa con la macchina arrivavo l'indomano che arrivavo piglia c'è fu il block il lockdown va bene siccome Alfio perché è suo cugino a me non mi viene niente perché è la sorella di sua moglie Alfio c'aveva la casa nica io mi dico che c'aveva la casa ranni li ho dovuto ospitare io e c'aveva l'affio la sera che era solo e sapeva che noi altri erano un zinghio come uuuu uuuu perché si annoiavano e allora chi fì c'aveva tempo niente tipo la batefarina chi lo do conto da un po' di Cristo chi è la batefarina la batefaria la batefarina lei ancora pensa alla farina di ieri con il lievito che so di Alfio con le forze delle unghie scavava una galleria a strada che è larga 10 metri scavava da sotto e spondava un tuo garage da mia casa con una galleria dopo due giorni mi disse non posso stare su coscommo non posso venire io faccio la galleria ora stiamo insieme stiamo insieme noi si ne mangiamo ne mangiamo quattro cose poi vi dice il torinese qui su Tonino dice giochiamo a poker mi chiesto lei non lo sapeva non aveva mai giocato a poker mai mi chiesto il poker io ho le carte e sono le carte che c'è una ciolla si io conosco queste carte si non sono carte nostre no non sono carte nostre comunque il jolly non lo ripeta che qui ha un altro significato dalle nostre parti la jolly è ciolla si ho capito va bene lo so vede come ridono perché sono tutti perché sono contenti sono contenti certo lo so giocano a poker tutti poi ci ha detto ce la facciamo una partita a poker giochiamo in quattro gli affi che avevo fatta la galleria come la tappa il tunnel il tunnel il torinese Tonino la moghiera Teresa e io mi chiesto ma io non ho giocato mai mi chiesto non ti preoccupare dice guarda le solle e ce le levavo dice prendiamo le carte 2-8 non so se c'è fino a 2-8 9 io preparavo un mazzo dice è un gioco faccia la faccia io non lo sapevo dice si distribuiscono 5 carte a testa perfetto e si danno di mano manga verso mano retta perfetto io dice ti do le 5 carte e chi del resto non mi metto qua tu dice guardi queste carte e se hai 2 carte uguali se hai 2 carte uguali e coppia bravo giusto giusto e poi è il contrario ai cristiani perché i cristiani fanno una coppia se i mascoli e i femmini fanno una coppia certo però magari 2 fanno una coppia due carte uguali sono una coppia giusto se tu di queste carte di queste coppie ce n'hai 2 perché hai 2 carte uguali e 2 carte uguali udici a stessa parola è una doppia perfetto è una doppia che è più forte poi se hai 3 carte uguali udici a stessa parola 3 carte uguali noi diciamo 3 3 e tris e tris bravo giusto che sono 3 carte uguali 3 carte uguali e tris e poche giusto bravo e allora spartivi i carte una 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 basta raccominciamo come ho pigliato la casa ma te l'hai messo dice il piatto piange il piatto piange sì e se c'è fatto cosa no e tu mi disse intanto ci vuole la posta ci vuole la posta ci disse gioia è domenica e c'è la posta è chiusa ma che dice a Torino non lo sa no mi disse la posta sono i sordi che noi ci possiamo giocare perfetto signora Rosa che sordi veri certo si gioca con i soldi veri 7,50 euro 7,50 euro sono tanti per lei 7,50 euro a mio caffè a mio caffè chiedo muri alla mattina Don Filippo Badisic ho capito che è il barista che è il barista l'abbiamo detto me lo ha raccontato ah ce l'hai parlato sì sì perciò io con 3,50 euro con 7,50 euro non so se il pubblico lo sa perché si chiama così se lo vuole chiarire prima che resta così no è stato una specie di miracolato perché è stato sposato per circa 12 anni senza potere avere figli poi un giorno per miracolo io manco due mesi prima avevo assunto un ragazzo marocchino un giovanotto marocchino al bar al bar che si è extracomunale per fare un banconista extracomunitare ecco dopo manco tre mesi che c'era sto caruso vuol dire forse per l'opera buona che gli avevo fatto sì sì per miracolo sì per miracolo giusto giusto tre mesi dopo l'assunzione di questo ragazzo marocchino esatto per questo bisogna fare le opere di bene io fico quest'opera di bene sì sì ho capito che ha assunto sto cosa mi chiede nasce un vicerito ah com'era vedo la cannagione scura ho lavato ho lavato si ho capito il rito bello sì sì vedo un miracolo è stato un miracolo torniamo al poker perciò 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 c'è intanto che ci vuole la posta la posta è chiusa poi il piatto piange va bene mi spiegavo che cosa era poi le due carte io sbido con le carte signore le tiro da faccia asso 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 sì sbido con le altre carte asso sono due sbido con le altre carte ta buttana dammi si era ahì ahì che è successo otto otto ma c'è otto otto l'ottom sbido con le altre carte pa regina regina buttana dammi ma regina Natalia non c'è non c'è non c'è più perché e chi sta cavo a trovare tiro la quinta carta pa asso cadevo tris tris di asso tris affio non capiva niente di chi tagliava mia tutto che faceva io faceva io mi metteva la mano così e io faceva che mano così sulle carte e io mi tagliava un cretino completo Teresa era pratica paghiava le carte faceva le carte e a un certo punto chiesto mi chiede quante carte a mia e c'è due è certo giusto ti può canciare se non ti piace si possono cambiare le carte mi chiedono due carte arrivano di affio due anche io non sapeva giusto per copiarlo per non fare male a compagni faceva quello che facevo io chi l'ha servito chi l'ha servito se pigliava una carta bisogna aprire bisogna aprire ma se mancano tutto poleato bisogna aprire il gioco il gioco non la porta il gioco e c'è via un euro un euro e c'è messo io e affio c'è messo un euro anche io lo sappiamo come ne canciare i miei carte questo dice parlo io che ho aperto che fai cip cip fondavo i affio e ci fai piu piu ma no no la prego no avevo un di mila e ci fai coccodè e ci fai un burrata avete fatto il pollaio completo cip piu piu coccodè vabbè dice per giocare per giocare mi disse ci vogliono un altro euro ci fai messo un altro euro io ci fai messo l'euro affio ci fai messo l'euro Teresa ci fai messo l'euro gli ha chiesto come se tagliare i gatti non dà la faccia diventavo di mille colori signor La Rosa io mi sbidduco i gatti pa i aso aso era di chi do caggiaio l'aveva si pa i aso che era di chi do caggiaio è sempre quelli sono pa i aso era di chi do caggiaio io disse ma che ci sbidduco se già erano appunto io glielo stavo dicendo se già li conosce vada alle altre due tiro la quarta carta dieci mi ha studiato tiro la quinta carta aso aso avevo poker 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 la carta più forte l'aso poker poker d'assi era stai glaciale freddo bravo l'occhio aperto tanto che pareva una civetta così lo tagliava si mi ha chiesto mi tagliava mi disse parlo io che ho aperto si online ma chiesto online che vuol dire mi ha chiesto tutti i soldi cagliati davanti mi ha chiesto mi ha chiesto mi ha chiesto mi ha chiesto poker d'assi aveva poker d'assi jaffio magari c'è online magari io non capiva niente se farò conto che all'ultimo quando ci vissero mi ha chiesto di affio aveva l'assi coppio come ci aveva robato la carta siciliana aveva come ci aveva robato non lo so non c'è l'assi di coppio delle carte da poker non c'è perciò l'affio come calavo l'assi coppio io ci stavo dando un muro per dire c'è disgraziato che sei uno di bari uno che imbroglia io uno di bari un bar capo magari la partita c'erano un sacco di soldi perché tutti ce l'avano messo ma caro Teresa perciò l'affio non è venente Teresa aveva fullo fullo l'idro stava benificato tutta la parra fullo è bello è importante l'idro picchia cala una scala ta picchia fa scala reale scala reale aveva una scaletta tutta del cuore picchia all'on la mano per picchiare i soldi un colpo di portare cinere cinere che andai in coppio da mano un colpo di portacenere c'era la prima con la tezza falange di un binghiolino con un portacenere sulla mano e tu fai un colpo cosa c'è se posa l'osso posa l'osso che qua c'è poker e c'è via il ministro dice a mescala abbatto il poker amico bello ue ti pare io calo le montagne perché non è che il paese andiamo le montagne ma ti pare che sogno di papore e io c'è il poker è imbattibile perché un gioco si chiama poker se la scala reale era il gioco più forte si chiamava scala reale il gioco signor se mi prendi i soldi mentre mi stai eserbando i soldi iddo no io iddo perché mi pare dice ora mi affronto magari a dirlo che cosa lo posso dire non lo so cosa vuole dire però il ministro dice ora ci facciamo la teresina eh iddo teresa subito si si bello si si bello bello questa è una famiglia consumata oh 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 ma no vedete che hanno capito loro ma siete sicuri iddo iddo donino certo certo così ci diventiamo tutti anche io come disse questa cosa io mi chiambo di mano e ci tocca i miei no non ci dico chi lo stava succedendo al ruolo crucifisso di una banna con un bezzo dell'igno tanto a teresina era un altro luogo che si chiama teresina io ste carte a mia casa non entrano più lei deve stare buono tranquillo mansueto lei queste cose particolari non le deve fare guardi fermiamoci fermiamoci andiamo in pubblicità io volevo sapere solo un'esperienza sua di lockdown a dopo regia pubblicità di nuovo insieme grazie al nostro pubblico che ci ha seguito con grande passione la prima puntata noi andremo avanti per parecchie settimane e stiamo costruendo signor Litterio ricordiamolo proprio questo nuovo programma televisivo è lo studio è casa mia questa casa che vi accoglie tutti quindi lei è pronto facciamo i provini e qua facciamo i provini fatemi fare questo provino io non me l'aspettavo da lei sa questo signor Lerosa dopo 22 anni il sorrido me la dà una mano io te l'ho seguita anche in capo al mondo è vero siamo stati insieme dovunque 22 anni signor Lerosa si ricorda quando siamo stati a Cattagirone a Cattagirone la fattiamo due anni prima perché Cattagirone è lontano nel profondo nord dell'Otalia a Catanzaro siamo stati a Catanzaro parlavano un'altra lingua parlavano calabrese e ora lei mi fa chiettare e quando siamo stati in quella città non mi ricordo quale è una potenza questa città ah in Basilicata sì non mi ricordo la città come si chiama una potenza 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 il cuore mi dice che la signorina Nadia mi farà fare un personaggio che mi sparerà come un missile spottino nelle stelle del teatro e io già me la vedo a lei che entra da quella porta e mi dice signor Letterio signor La Rosa posso? mi scusi mi surbo posso parlare? mi dica venga che è successo stavolta che c'è? intanto non sto parlando con lei lei parlando con lui è come se parla con me perché siamo a Cussi signor La Rosa vengo a denunciare un fatto imperdonabile che lede la moralità di tutto il condominio guardi io non so cos'è successo ma non mi interessa invece le deve interessare signor La Rosa le deve interessare è successo un fatto immorale un fatto imperdonabile io lo devo denunciare a lei allora guardi non a me vado a denunciarlo al capo condomino no no il capo condomino l'hanno arrestato è certo è un bel ambiente lo vado a denunciare al vice capo non l'hanno arrestato assieme per truffa a tutti e due a tutti e due guardi l'unico alto in grado che ancora non hanno arrestato né condominio è lei ma ci vuole picca però guardi la smetta la smetta guardi io non ne voglio sapere nulla non mi interessa no invece le deve interessare ma se ci sta dicendo che non ci interessa e invece ci deve interessare perché lei sta facendo una trasmissione in questo condominio una trasmissione meravigliosa e non può permettere che succedano certe cose né condominio e poi lo puliziamo che hanno sporcato poi lo puliziamo cose di donne di facili costumi guardi io non so che cosa è successo e non mi interessa sapere cose di donne di facili costumi no perché no perché amandagare questa cosa che cosa questa cosa si può portare avanti perché noi è bello Vincenzuzzo si ora Vincenzuzzo raccontami no perché dobbiamo approfondire chi è questo scandalo immorale la perdizione l'immoralità in questo condominio c'è una condomina un poco strana in una casa strana ecco le persone strane e le cose strane hanno bisogno di un poco di tolleranza bravo di una casa di tolleranza stiamo parlando ma è venuto un dubbio a mia è sicuro è sicuro Vincenzuzzo parra allora a mia mi interessano i dettagli sì certo allora stamattina stamattina mi trovavo a pulire le scale del pianerottolo a quinto piano oh quinto piano davanti alla porta di una signora così per caso certo ti sei trovato carica appuggiata andata la porta sì la signora Teresa la signora Teresa ce l'ha presente signora Rosa la signora Teresa tu stavi sentendo per caso per caso io lo stavo sentendo e come è questa signora Teresa no no niente niente non la conosco io l'ho vista guardi un paio di volte così di sfuggito ma tu eri carica per caso sì per caso perché stavo là non era e la ricchiera appuggiata una volta e che cosa che sentiste la bendizione questa signora lei non l'ha presente che è la signora Teresa ma come è questa signora tanto pensare guardi le posso dire così di sfuggito la signora Teresa è bionda ma già abbiamo un punto freno bionda e quinto piano occhi azzurri bionda con l'occhio ha un neo sopra il labbro il collo alto la vita rotondetta 44 di taglia droppe 6 misure 60 80 90 poi c'ha quarta di coppa c di seno 36 di scappe ah tu così casualmente ci fai questa risonanza magnetica ho capito a un certo punto ho sentito distintamente la signora che parlava con un uomo ma cosa c'è di strano se una signora parla con un uomo cosa c'è di strano in quello che ci diceva la signora gnolla rosa gnolla rosa lei è un giglio questa cosa lei non mangia di femmine lascia parlare allora contemmi tutto cosa allora la signora a un certo punto ci diceva l'uomo avanti forza ci dobbiamo sbrigare idda idda buttava avanti idda come lo vuoi fare in piedi o sdraiato di iniziativa uno sui queste femmine di iniziativa non ce n'è più a un certo punto io iddo iddo muro lui in silenzio la signora ci faceva avanti forza abbassati di più i pantaloni ma che mi sta dicendo scansa la camicia che schifo agevola il movimento che schifo con la perdizione c'è andato a un certo punto la signora ci ha detto guarda io sono brava però spero di non farti male e chi idda sape la violenza si lascia prendere da violenza a un certo punto si è sentito l'uomo si i carabinieri ci vogliono ha sentito l'uomo che faceva un grido no io no io fai io e tutto si è concluso con la signora che ci diceva va bene grazie fanno 5 euro arrivederci e se n'è andata io glielo volevo raccontare signor non mi interessa questa cosa è importantissimo dove sta andando cosa sta facendo dove sta andando ma resta rotto euro d'aspis non mi passo pomeriggio ma dove sta andando venga qua quinto piano a quinto piano venga qua fermi tutti e due fermi anche voi 5 euro 5 euro non è che faccio male con passare ha detto 5 euro basta me ne stai signor Litterio signor Litterio venga qui io ho voluto ascoltare fino in fondo la discussione perché so benissimo chi è quella signora la signora Teresa del quinto piano è una bravissima donna fa l'infermiera fa le punture quindi probabilmente l'uomo ha sentito un po' di dolore perché gli stava facendo una puntura ah quindi sta facendo la puntura esattamente no questo io non glielo lo so dire io lo dico io comunque ne parlerò con mio fratello Lorenzo di questa storia arrivederci ci vediamo prossimamente secondo me la puntura è di copertura la signora Teresa ma fa un film era di copertura ma che dice la signora Teresa al quinto piano abita lì da tanto tempo insomma piuttosto andiamo a vedere che cosa sta facendo la signorina Nadia che mi salva sempre nei momenti difficili Nadia sì eccomi eccomi ne occorre qualcosa io sono qua sì io sono pronto voglio fare il provino forza ecco non ancora signor Littero per favore deve pazientare non me lo faccia ripetere più per favore ma quando devo pazientare io con la signora Rosa io ce n'ho ma sta finendo la mia pazienza signora Rosa guarda che io sono sull'ollo della disperazione dopo tre mesi chiusa la casa dove? sei mesi io sono sull'ollo della disperazione io sono buono e caro ma quando sono sull'ollo io faccio qualche sproposito no no per favore spropositi no per favore via poi si vede che è un uomo buono io sono buono e caro è bello ma non quando sono sull'ollo io quando sono sull'ollo io ho otto mesi che non travaglio lo capite questo che ho otto mesi e lo so lo so io quando sono sull'ollo faccio cose che non io una volta che ero sull'ollo ma proprio sull'ollo che cosa ho fatto? che cosa ho fatto? che cosa ho fatto? che cosa ho fatto? eh? come? ha fatto una? ho fatto una rapina una rapina? una rapina lei? sì ma va ma che fa? non ci crede? ma no guardi signor aveva una cambiale aveva una cambiale di 200 euro e io avevo 80 euro mi mancavano 120 euro ero disperato già me l'hanno rinnovato 5 volte da cambiale chiedo me l'aveva detto dice basta e allora io anziché raccontarcelo ci faccia vedere quello che è successo perché una rapina è una cosa molto grave quindi ce lo faccia vedere signore e signori la rapina io non so più che cosa fare c'è una cambiale di 200 euro e non c'è i soldi per provarla stavolta me levo una macchina stavolta me levo un immobile stavolta me levo una mughiera di abbono una mughiera non si piglia non se li prendono io che sono una persona onesta questa volta faccio il salto del fosso faccio il salto da buffa ora mi metto cacca c'è una fermata dell'autobus state vedendo questa è una fermata dell'autobus manca il lampione è un poco al buio ora ho primo capas e ci penso io ora vedrete ho primo capas ci dico ci dico ferme ci dico ferme tutti questa è un'ora rapina ma ferme tutti che c'è uno certo a quest'ora di notte alla fermata io che sono pieno di soldi non è che mi sento tranquillo io sono 220 euro che lauree ci lascio 220 e 80 fanno 200 ora ci vai e ci dico ferme tutti questa è una rapina io ferme tutti io uno solo fermo tutto questo fermo tutto pare che una parte sta ferma una parte se muove fermo tutto fermo tutto non solo ce levi i soldi spazio non c'è uno ma caro tutto già come cominciai a dire mani in alto questa è una rapina mani in alto questa è una rapina mani in alto questa è una rapina che ha detto mani in alto questa è una rapina non la capisco che dice minchia giusto mani in alto questa è una rapina non si capisce che dice buonasera 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 letterio io sono onorevole minchia un collega no no che capisco mi levo magari le scarpe delle pere no 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 io sono onorevole diego onorevole onorevole di cognome ah onorevole di cognome ma io pensi che era un politico no 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 assolutamente questo ora mi consuma no 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 quella è mia faccia quella è una rapina ma lei che mi sta facendo una rapina a me lei mi fa una rapina a me che sono l'uomo più buono del mondo non mi interessa lei mi fa una rapina a me che sono un uomo generosissimo non mi interessa lei mi fa una rapina a me che c'ho una moglie a casa che mi aspetta non mi interessa lei mi fa una rapina a me che c'ho tre figli a casa che mi aspettano a tavola tutti e tre come tre passarete che c'ho una caperta io mi interessa si fanno le rapine si fanno le rapine si fanno le rapine si che si fanno le rapine ma ma come le fa lei mi scusi ma lei che è la prima volta che fa rapine che sta dicendo io c'ho un curriculum lei lei è il rapinatore di professione professionista oggi non faccio di copertura parcheggiatore abusivo e la notte faccio rapine lei fa rapine io ho il cliente ma no tu che ho sei di vent'anni di clientela io ho la gente che come nel rapino almeno una volta ogni due mesi si affennano ah si io quando mi incontrano ah ma chi hai non mi sta rapinando più ma mi hai preso per un moto di fame ah si io una volta cascavi malato non venivano a trovare ma la casa loro facevano che manacossì direttamente paghavano un portafoglio mi lasciavano sopra le colonnette e se ne andavano da lei ah si quando cascavano malattie ci vogliono a casa a rapinare ah si ci vogliono a un barcuno secondo piano terzo piano io ho il Natale a rompere la lastra con una patata ma lei mi dava ogni sorda ah si basta fermi tutti questa è la rapina ha miso ah 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 è una rapina ah 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 ma lei fa le rapina così fa le rapina ma che ci contai una barzelletta di Giuseppe Pastiglia ma scusi ma lei così fa le rapine ma è una rapina ma che dè allora intanto il rapinatore deve fare paura lei fa ridere ma scusi lei deve fare paura incuta 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 di più incuta ma io mi incuto assosore che cosa sta dicendo no no dico lei deve incutere paura faccia faccia un rapinatore un po' più cattivo una voce più cattiva mi faccia fermi tutti mi ha una rapina ancora di più ancora di più buonato questa è la rapina ancora di più ancora di più minchia questa è la rapina niente lei non fa paura così poi scusi questa cosa che cos'è questo è un coltello appuntito ah il sangue ma che cosa questo ha la punta ma questo è un coltello da tavola che cosa sta dicendo la punta lei deve toccare la punta ma quale sangue questo è un coltello per fare le rapine questo è un coltello da tavola per mangiare la carne ma che cos'è questa cosa guardi lei così la rapina non la può fare se mi posso permettere ah per fare la rapina non è che per fare la rapina cosa ci vuole per fare paura proprio nella rapina che ci vuole no 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 per fare la rapina ci vuole la la pi la pi la pi no 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 ci vuole la pi la pi la pis la pis la pis la pis no 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 per fare la rapina ci vuole la pis 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 per fare la rapina ci vuole la pistola ci vuole ma sono così pericolosi questo non è pericoloso ma lei non ce l'ha la pistola no mi fa impressione ma lei così niente fa nelle rapine la pistola ci vuole lei è fortunato lei oggi è fortunato perché ha trovato la persona giusta guardi, gliela do io quello che serve un rapinatore veramente, un rapinatore professionista eccola qua, eccola qua la vede questa? tenga, tenga, tenga questa è una pistola, 9x21 veretta, com'è, com'è? chiede che la polizia è pesante com'è? ora si, ora si vede già tutto un altro aspetto già è un rapinatore di serie A così bravo guardi, questa qua ha una pistola di 700 euro quanto? 700 euro mi mancano 120 euro io faccio una rapina ma con quella lei le recupera però lei non ce l'ha 700 euro ma che faccia scherzando allora ci penso io guardi, lei è fortunato lei è fortunato solo per questa occasione io questa pistola a lei gliela vendo per 40 euro è un affare? è un affare tanti recupero subito infatti, è la prima rapina che vale recupera ce l'ha 40 euro? ce l'ho perfetto ce l'ho 80 euro oh, allora voglia, grazie 20 40 perfetto perfetto scusi, scusi, scusi ci levo i due stessi ora come finito scusi, scusi ma lei ha solamente la pistola? lei ha la pistola ferma ferma a mano in alto questa è una rapina ma con la pistola sola scusi che c'è il vero? un cannone no, no no, no lei ha bisogno di qualcos'altro lei ha la pistola e ha la voce della faccia di aggressione no, no, no per la pistola che cosa ci vuole? che ci vogliono? cosa ci vogliono? le, le pa? le pa? le, le pa per re? no, no no, no per la pistola ci vogliono le pallottole i proiettili i proiettili lei ce l'ha i proiettili? se non dobbiamo mancare la pistola che devo fare di i proiettili? lei è fortunato mi dica la verità questo è il suo giorno fortunato perché ce le ho io ce le ho io i proiettili per lei proiettili 200 proiettili per la calibro 9x21 guardi questi proiettili se lei va nell'armeria questi proiettili lei li paga 150 euro assai ma quello non si può fare che ho niente però lei è fortunato lei è fortunato perché oggi ha trovato me che io queste qua le passo a lei solo per questo lei non vuole scontrino vero? no, fattura non mi interessa niente 20 euro e le do i proiettili avanti dai il carro, la pistola ha tutto così è tutto completo capito? se no con la pistola sola che fa? perfetto 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 mi scusi una cosa scusi ora carico e poi facciare mi scusi mi scusi ma lei la calza ce l'ha? sì ce ne hai due no 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 la calza la calza no la calza la calza quella che si mette la calza no una volta ma mi si stavo svenendo perché? perché chiedo di mia mogliere no non sbaglio la calza di seconda mano si è messa no no ci vuole la calza nuova non ce l'ha lei oggi è fortunata lei oggi ha trovato finalmente la persona giusta per lei guardi gliela do io una calza guardi che c'è guardi che c'è questa è una calza originale da rapinatore questa ma la calo non ne conosce nessuno non la conosce non si muove sta aderente al viso è perfetta com'è? com'è? è bella è nuova senza ingegnata è nuova è nuova mi ha chiesto a mia mogliere come la calza vai quella là se lei va al negozio calza dal rapinatore ufficiale costa 50 euro non si può accattare più niente e invece oggi lei è fortunato perché io oggi solo qua per lei gliela passa 10 euro ehi ma lei è un amico come? 10 euro poi mi ringrazierà quando fa le prime rapine mi ringrazierà ciao io 20 euro ma dare 10 euro di resto 10 euro di resto guardi il resto non ce l'ho ma io sono sicuro che lei non c'ha il guanto no il guanto l'ho come? io per sicuranza uso sempre che cosa? per sicuranza no no il guanto che anche i giovani lo usano no no il guanto il guanto il guanto per non metterli in cinto il guanto il guanto il guanto guardi allora ci penso io guardi il guanto questo è il guanto guanto da rapinatore questo per lei solo a 10 euro le dovevo 10 euro e siamo facili tutto a posto questo me lo metto qua così non lascio impronte vegetale così non lascia niente e guardi le devo dire una cosa ecco le devo dire una cosa i tempi sono cambiati oggi i rapinatori non usano più tutte queste cose ora carico no 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 io avrei un prodotto per lei che è una meraviglia guardi ma i soldi non ne ho più non ce ne ho più soldi ha finito i soldi? e non ne ho più avevo 80 euro che peccato le dovevo fare vedere un'innovazione comunque gliela faccio vedere lo stesso guardi qua lei conosce questo? no questo non lo conosce? che è? gas narcotizzante la pistola ormai i proiettili fanno il rumore i carabinieri lo sentono questo niente questo niente questo è gas narcotizzante no 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 gas gas narcotizzante guardi le spiego subito lei questo qua lo avvicina 30-40 centimetri dal naso della vittima e spruzza uno due e tre e la vittima piano 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 si addorme niente perfetto mi ria qua c'ha lui i clienti che ci vanno a casa ci vanno i clienti va bene va arrivederci non lo disturbiamo sta dormendo sembra un angioletto non facciamo rumore andiamo piano piano in pubblicità ci vediamo tra un poco ciao stasera ci mancava soltanto la rapina vabbè abbiamo visto anche questo signor Litterio siamo arrivati in fondo anche a questa seconda puntata quindi quindi che facciamo facciamo a questa maniera chiudiamo di nuovo insieme di nuovo insieme eccoci qua io vado dottor Larosa buonanotte 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 signor Litterio lei? no io mi fermo tanto domani e di nuovo forse stanotte dormo qua va bene buonanotte allora buonanotte a domani a domani voglio leggere signor Larosa adesso una poesia di Mario Gori tratta da una raccolta che si chiama Un Saraceno in Sicilia un inno al nostro sud il mio sud ha strade di fango e siepi d'agabi e rovi e case basse tinte di fumo e donne vestite di nero che lavano avanti le porte e attendono uomini e muli con occhi d'ansia cupi di tramonto e uomini ha il mio sud uomini vestiti di pastrani militari e berretti mafiosi le barbe lunghe di una settimana le ossa stoccate dannate di zappa e il sangue fosco di silenzio e amore il mio sud prega e bestemmia i santi neri delle processioni e vecchi ha ancora il mio sud vecchi a cattone di sole vecchi che bevono vino e intrecciano fili di giunco e reti rattoppano e narrano antiche sfortune si butta l'olio sull'acqua per le ragazze che han seni di noci e attendono morsi di uomini e sull'acqua poi il sale sputando parole saracene contro malocchio e fatture ma ci si perde a vent'anni nel mio sud a vent'anni per un garofano rosso il finale il nostro sud dedicato stasera al nostro sud sempre con le parole bellissime emozionanti di Enrico Guarneri grazie 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 allora seconda puntata che va in archivio e dobbiamo sempre presentare i protagonisti di questo nostro viaggio che continua ancora lo conoscete bene il portinaio il signor Vincenzino e Vincenzo Volo stasera ancora più elegante del solito la nostra Nadia De Luca eccola qui sempre come me con gli altri del piramidic di Sortino grazie grazie Nadia ringraziamo anche Cappellani Megastore 10 Reale per il pianoforte ma poi ringraziamo soprattutto lui Enrico Guarneri Litterio grazie signori signore Salvo Larosa grazie anche oggi chiudiamo la puntata ma prima signor Guarneri tocca a lei presentare il suo amico il mio amico salvo la filosofia vera la filosofia giusta della vita ce l'ha Litterio non drammatizziamo troppo non ci pigliamo troppo di collere insomma a lui di unici chiovi ci sciglie e in qualche modo anche a noi buonanotte sigla alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti c'è chi si pina c'è qualche una soprantina che esiste ma cacciù c'è chi sbatte per il mutuo chi sorpassa e fa cornuto c'è chi ricco e merutuo c'è chi va dallo psicologo e poi chi si pende e si fa a monaco co protesta par benzina c'è chi si ratta carina c'è chi è sempre in mezzo ai guai ma tanto a mia tutti a mia vai un nemico mi sciglie a mia mi rilassa la musica dice un proverbio a cotte rupa rupa ci vanto menzu piegano ci guppa e canto a mia un nemico mi sciglie oh mia che fa la gente la gentilossa sa rusica sogno tranquillo e faccio una bella vita e dove sta traiato sui come una zazzamita e canto a mia dove mi piove mi scivola grazie buonanotte 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 Grazie a tutti